devo fare tutto io qui un agente si è invito al gruppo nemici in avvicinamento segni vitali critici grazie le scorte sono andate nessuna risposta da duchessa cazzo 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 hanno ucciso duchessa mi voglio morti fate soffrire voi bastardi torzio sti in arrivo ostili vicini ok 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 Grazie a tutti. 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 Vai saltare questa merda! Grazie a tutti. Agente a tutti. Agente fuori combattimento. 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 Grazie a tutti. 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 Agente a terra. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti.